Ciao amici collezionisti amanti del Topolino, vi parlo oggi di una storia disegnata da ben 35 disegnatori 35 artisti che nel Lucca del 2005, quindi parliamo di quasi 20 anni fa si dilettarono a disegnare la storia più lunga in assoluto, perlomeno fino a quel periodo e che io sappia nel Topolino ha ancora un record imbattuto non tanto lunghezza di pagine, non di tavole, ma di lunghezza fisica perché nel 2005, ve ne è poi spiegato nel nazionale, ne è creato un padiglione apposito con tavole a grandezza naturale in sequenza, una dopo l'altra, consecutive a formare la storia più lunga mai apparta su un fumetto di ben oltre 250 metri lo vedremo fra poco, una storia come dal titolo da record ma guardiamo il tutto meglio assieme diamo uno sguardo rapido alla copertina, parliamo di Marco Mazzarello nonché artista che tra l'altro tutt'oggi ancora disegna e che anche per quell'anno disegnò questa famosa storia da record nella prima storia abbiamo due autori molto importanti in particolare il primo per quanto mi riguarda ovvero Casti con Topolino e Il caso Sottilissimo storia che tra l'altro recentemente, proprio 2024 uscì in ristampa con la Trinale Collection a cuore di Pastrovicca al disegno siamo nel 2006 all'inizio quindi Casti è soltanto da qualche storia autore completo e comunque ancora, ovviamente come succede tutt'oggi il disegno non è sempre suo o comunque solo una parte, quindi la sceneggiatura una storia molto bella in cui Macchia Nera riesce grazie a un bidimensionatore a risultare molto sottile e quindi a dare molto fastidio alla polizia Panaro Asteriti non si può non riconoscere il grande Sergio Asteriti mitico Asteriti che ad oggi compie 94 anni oggi che, insomma, questo è un anno solare che sto registrando per me oggi è il 19 agosto 2024 Asteriti è ancora vivo e vegito ha ben 94 anni ma io penso per motivi personali da diversi anni viene consensualmente stromesso dalla redazione perché, ovviamente, ecco, per età qua eravamo Guerrini Guerrini di vent'anni fa che comunque, vedete, è molto simile a quello di oggi non è cambiato tra Vagnini e la sceneggiatura che può essere un bene ma anche un malus dipende per chi piace o meno Guerrini ma arriviamo, ecco, alla storia in questione scusatemi la lunga premessa ma per contestualizzarvi un po' dove eravamo un topo record ecco, oltre alla storia avevamo un gradazionale di circa 5-6 pagine che per me rende ancora più interessante la storia stessa perché io rimango sempre molto affascinato dalle foto per me una delle invenzioni più belle che l'uomo ha potuto sperimentare e vivere negli ultimi secoli è la fotografia perché la foto cristallizza dei momenti e guardate, per esempio, vent'anni fa come erano giovani certi autori abbiamo qui Alessio Coppola Silvia Ziche e Turconi Stefano Turconi che tra l'altro quest'ultimo ormai pare essere scomparso dal topolino per motivi personali insomma, per progetti indipendenti e poi qui ci sono altri autori che però ometto di riconoscere dai volti probabilmente questo senza capelli potrebbe essere Pastrovicchio, non lo so oppure Dippolito anche perché poi compare dopo insomma, un tal Aldo Carriere che anche qui non so bene chi sia ma pare che al tempo fosse l'art director di Topolino o comunque delle sue disney e buona idea quella di realizzare la storia più lunga tra l'altro fatta sul momento quindi creata appositamente in live io presumo in diretta per la manifestazione di Luca Comics una storia che rientrasse nel Guinness dei Primati coinvolgendo, ripeto ben 35 disegnatori di cui, guardate qua che c'è in piena centro pagina il mitico Giorgio Cavazzano che al tempo parliamo di 20 anni fa già godeva di 42 anni di carriera quindi non sicuramente l'ultimo arrivato anzi, probabilmente già al tempo era quello che ne godeva di più perché i vari scarpa, carpi, bottaro ormai avevano lasciato si può dire la conduzione del Topolino Cavazzano invece era ancora lì perché iniziò molto molto presto c'era ancora ovviamente Asteriti c'era Chiarchini autori che c'erano Gatto ovviamente autori che però poi per motivi più o meno ragionati uscirono dal Topolino quindi gli oltre 240 metri di pannelli sui quali lavoreranno i nostri eroi assalto alle armi del mestiere matite, gomme e pennarelli leggiamo insieme l'idea che ebbe signor Carrier ragazzi per arrivare a ciò entrare nel Guinness dei Primati ha richiesto una lunga reparazione inventare la storia farla sceneggiare chiamare i disegnatori inviare a ciascuno il riassunto della trama e la descrizione delle vignette per poter preparare i bozzetti per gli artisti è stata una grande fatica disegnare in piedi e su fogli in formato gigante grazie a Volenterosi che la sera prima della sfida hanno attaccato per ore insieme a me i fogli da disegno sui pannelli devo dire che fate riferimento a quanto è la dimensione qui su Cavazzano rispetto al foglio oppure ancora qui signor Carrier insieme ai fogli da lontano capite bene quanto fosse grande anche disegnare in tutto ciò non era per nulla facile ecco penso che i disegnatori fecero una fatica non indifferente pensare di disegnare in un formato così grosso perché sì che il topolino è troppo piccolo ma la tavola solitamente è in formato A3 non più grande se non per richieste particolari che poi veniva scanalizzata e rimpicciolita per stare nel brossurato ma così grande non so se questi autori mai sperimentarono di farlo qua per esempio abbiamo Coppola uno dei pochi che riconosco perché è uno dei pochi che pure vi di persona che bello insomma una bellissima esperienza da un record all'altro ricordando che comunque qualche anno prima nel 97 già Topolino entrò nelle vignette dei primati perché con la storia Topolino Inoino che non ricordo bene di chi sia ma già la portai sul canale una storia che stava tutta in una pagina ma perché le vignette erano talmente piccole che bisognava avere l'ingrandimento mi sembra di ricordare che era legata pure esta per poterla leggere ma in questo caso nella storia Ciccio e il compagno sotto sopra abbiamo 100 matite 250 penarelli 10 ore di lavoro e soprattutto tantissima pazienza questi protagonisti sceneggiatori Radice Savini e Vitaliano ma ovviamente il ferro all'occhiero sono gli disegnatori che non vincito tutti ma soltanto i più importanti o meglio chi 20 anni fa era già importante ma che poi diventerà un maestro nei prossimi 20 per esempio Bertolucci Cavazzano ovviamente Di Polito Freccero Gervasio un Gervasio molto giovane Guerrini già al tempo maestro Limido Mangiatordi Mazzarello Pastrovicchio Sciarrone Soffritti Turconi Daniela Vetro Silvia Ziche Ettore Gura insomma i nomi sono tantissimi ho solo dato quelli magari più più importanti ma nessuno è escluso da questa lunghissima avventura e poi qui una bellissima foto proprio a a ricordare il momento e qui vediamo per esempio un Di Polito molto sorridente guarda qua è lui qualcuno si riesce a riconoscere per esempio Gervasio molto giovane 20 anni fa ragazzi è inutile quando passano 20 anni ci si rende conto che il tempo è passato me ne rendo conto io quando ne passano due o tre figurati che ne passano 20 io 20 anni fa non ricordo cosa facessi ma loro sì 20 anni fa si ricorderanno benissimo questa esperienza erano già molto più che lucidi abbiamo anche un giovanissimo Mazzarello la Coppe e i Cioturconi che boh azzardo che già stavano insieme ma non sono sicuro Guerrini che in realtà è molto simile ad oggi ma si vede che è leggermente invecchiato di qualche anno ancora qui Silvia Zica anch'essa molto giovane per chi la vede adesso può dire che 20 anni ecco sono passati anche per lei ecco non riesco a vedere se questo qua è Frecciero ma non penso sia Frecciero questo signorotto non lo so anche questo mi dà delle emozioni dai stessi non lo so mi sembrava anche lui Frecciero ecco non sono per nulla bravo io con le facce sicuramente facendo un fermo immagine il più pulito possibile molti potranno avere un'idea più chiara e magari da sinistra verso destra ecco darmi un suggerimento o dare a tutti un suggerimento perché qua ci sono una buona parte di quelli prima citati ci sarà anche Sciarrone ma non so dove sia a meno che sia lui mica lui Sciarrone vediamo un attimo avevo visto un'immagine con quell'uomo dai lunghi capelli ecco questa ma non è Sciarrone o si boh questo qua dietro vabbè comunque lascio a voi il commento per chi anche vent'anni fa aveva visto questi grandissimi maestri e poi abbiamo appunto qui la signora Mary Hill che arrivò di persona presumo come affiliata del Guinness dei primati quello statunitense per consegnare il famoso premio il certificato che hanno vinto con ben 242,45 mesi wow e cosa accadde poi di lì a qualche mese da Luca 2005 passano un po' di mesi arriviamo a febbraio 7 febbraio 2006 la storia venne stampata non so come in realtà secondo me venne rifatta perché pensare che la storia venisse scannellizzata e impicciolita la vedo un po' difficile a meno che utilizzarono uno scanner non lo so a 1 a 0 da quanto è grande ma presumo che l'abbiano rifatta ho queste impressioni e magari nei commenti ditemelo perché purtroppo non ci sono grandi riferimenti e neanche riferimenti ai disegnatori pagina per pagina comunque la storia l'abbiamo qua e la cosa simpatica è in teoria ogni pagina o comunque un gruppo di vignette rappresenta un disegnatore cui purtroppo però non sappiamo bene chi e di cui io mi asterrò da dare nomi perché potrei fare una gaff dopo l'altra sarebbe stato carino se avessero messo un'indicazione a capire chi è effettivamente il disegnatore perché io non li so riconoscere di 20 anni fa 20 anni fa vigeva un po' il trattolo a qualunque mi vede a dire i vari freccero Mastantuono Faccini disegnavano tutti un po' in scia di carpi mi vengono a dire molto bello un tratto molto bello provavano a essere come carpi quantomeno ma non ancora iconico come adesso ecco sicuramente se ci fosse il Faccini di adesso 20 anni fa si riconoscerebbe il Mastantuono che comunque è due autori che mancano ma già al tempo c'erano se so freccero sciarrone non ve lo so dire e poi comunque anche altri autori un po' secondari che onestamente non saprei riconoscere il tratto oltre a ciò c'è questo metro che compare a bordo pagina e che ogni tanto ci aggiorna di quanti metri siamo per esempio dopo in questo caso sul topolino 10 pagine nella realtà col pannello saremo già arrivati a 63,5 metri e sul finale dovremmo avere il numero esatto ecco qua 242,95 metri viene anche fatto poi questa lavagna finale con tutte le firme dei disegnatori e da qui li possiamo notare qualcuno in maniera più evidente qualcun altro un po' meno perché c'è chi preferisce scarabocchiare io purtroppo non sono capace ma Cavazzano lo conosciamo perché è sempre lui poi qualcuno più facile come Rigano Barbaro Gervasio abbastanza iconica anche la sua firma è tuttora quella presente di oggi Frecciero è questo? sì mi sembra no questo è ah questa è Teresa vediamo se trovo quella di Frecciero perché dovrebbe essere anche questa abbastanza mettono un po' a fuoco abbastanza riconoscibile ma non la trovo eccola qua sì metteva metteva là ora non la mette più là ma vabbè questo è un dettaglio volevo ecco soffritti molto simile ancora quella di oggi Deep Polito non lo trovo beh ora si firma Deep a meno che non lo riesca a vedere ma secondo me l'ha cambiata nel tempo Silvia Ziche è già abbastanza riconoscibile la sua e onestamente io poi di altri non riesco a cioè riesco a leggere ma ecco Coppola secondo me l'ha cambiata ma non sono sicuro non penso sia tutto questo affare qua a lungo ecco Deep Polito questa qua centrale però si firmava ancora per intero un po' come la scuola poi divenne Deep un pochino più riconoscibile missione compiuta grazie a magnifici 40 3 sceneggiatori 35 disegnatori e 2 letteriste che hanno firmato sulla lavagna di Ciccio Topolino nel Guinness ma arriviamo alla storia perché comunque se venne concretizzato un record è perché alla base i disegnatori hanno disegnato una storia tra l'altro ripeto molto lunga e anche fitta di dialoghi qualcuno poi colorò essa ma non sappiamo chi uno studio sicuramente esterno a Walt Disney Italia ricordando che Panini Comics sarebbe arrivata di lì a 7 anni quindi chissà se c'era già l'idea di comprare la parte di Panini ma dubito comunque Ciccio è protagonista del titolo e protagonista relativamente anche della storia perché è il suo compleanno però sotto sopra per quale motivo ve la faccio breve perché la storia è piena di esempi cerco di dirveli un po' in maniera superficiale ma insomma tante gag Archimede decide di fare una creazione guarda caso si sente annoiato crea qualcosa qualcosa che però sembra essere uno scambiatore di polarità come leggiamo testualmente può far diventare bianco un oggetto nero oppure caldo un oggetto freddo probabilmente non serve a niente ma ormai l'ho inventato quindi Edi infila la spina e nel momento in cui Edi infila la spina per attaccare questo scambiatore di polarità Paperopoli cambia letteralmente colore tra virgolette sicuramente umore e carattere perché ogni personaggio papero che conosciamo ma non solo i paperi più importanti ma anche i cittadini anche il sindaco i bassotti cambiano letteralmente comportamento da bianco diventa nero da freddo diventa caldo significa per esempio che Paperone non è più avido non è più un signore tirchio con i soldi ma diventa uno scialacquatore improvvisamente ama spendere i soldi e questo è solo il primo esempio abbiamo Battista che improvvisamente ama in maniera molto convinta pulire e non ha di certo fatica non gli pesa farlo anche se tutti i personaggi che nominerò compreso loro due un po' stranissi si sentono però dicono vabbè non so cosa stia succedendo ma ho voglia di spendere dice lo zio ho voglia di pulire dice Battista Paperino improvvisamente diventa fortunato Gastone da canto suo diventa uno dei uomini più sfortunati del pianeta Paperoga assume le sembianze perlomeno caratteriali di un filosofo mentre Picco improvvisamente decide di voler vedere John Pranzo un wrestler che mai Picco avrebbe visto non si è mai interessato Amelia che invece che strega è una fata Nonna Papera che negli ultimi tempi non riesce più a cucinare una torta Ciccio che si sta mettendo a dieta ma per esempio anche a scuola i professori non vogliono insegnare nulla ai ragazzi e quest'ultimi vogliono studiare cosa che solitamente non è proprio così anche se dovrebbe essere ma insomma si sa lo studente non sempre ha voglia di studiare in questa storia sì il vicino di Paperino che è un po' strano non è né Anacleto né Mr. Jones non so perché fecero così ma insomma vuole arrivare a patti con Paperino stesso tanto che vorranno guardarsi la partita e né uno né l'altro ti fa per la sua squadra ma ti fanno per un pareggio a reti inviolate naturalmente persino il sindaco come vi anticipavo addirittura davanti a tutti dice ma forse non mi merito il mio stipendio che ho visto che non faccio niente ma come un sindaco dice così strano i giornalisti invece che riportare la notizia rimangono un po' scettici dicono vabbè ma sì forse siamo giornalisti ma possiamo questa notizia evitarla per quanto importante possiamo evitarla incredibile abbiamo pure Paperina che di colpo diventa una superstar o comunque qualcuna di molto snob i Bassotti che non sono più tali ma sono diventati poliziotti Brigitta che si ritrova a essere innamorata a pezzo di Rockerdack insomma questa faccia di Archimede un Archimede che anche lui è colpito perché Archimede rimane fermo in un momento della sua giornata con il suo bolide e non riesce a ripararlo insomma come andrà a finire la chiave di tutto ciò sarà Edi Edi non venne ovviamente colpito da questa maledizione da questa magia da questo problema di scambio di polarità e quindi sotto indicazioni di Archimede ma in realtà anche perché Edi è intelligente riuscirà a sistemare tutto ma non ci riuscirà in maniera così evidente visto che creerà degli sbalzi di umore continuo Paperone per un attimo pensava di essere matto però poi si ripente dicendo ma io in realtà si vorrei spendere poi ancora no forse sì insomma c'è un po' di confusione ma alla fine Edi riuscirà a sistemare tutto anche perché nel mezzo Archimede staccherà la spina tornando a casa e ricordando quello che stava succedendo e quindi tutti i personaggi da me citati torneranno a essere nei loro vesti la storia probabilmente avrà un letto fine perché tutti arriveranno a fare un regalo a Ciccio comunque come di consueto simpatico regalo di Archimede che paradossalmente è colui che ha dato grande problema all'intera città perché con questo invertitore di quantità da un piatto vuoto arriverà un piatto pieno storia che poi si conclude nelle prossime pagine perché pure i bassotti arriveranno un po' per oga un po' per oga che però sul finale addirittura vuole ricliccare la stessa macchina che Archimede prima staccò e questo è quanto una bella storia tutto sommato una storia magari superficiale magari non così profonda sicuramente non lo è però creativa perché ogni personaggio eccetto forse qualcuno e vi dirò chi perché avete visto quella dei personaggi che non ho citato cambiano un po' umore cambiano punto di vista ecco i nipotini io la storia me la sono letta ma non ho capito cosa accade a loro non mi sembrano cambiati particolarmente Rockardac viene citato perché è amante di Brigitta ma non viene visto la pulizia i basettoni quindi manetta non ci sono ci sono i bassotti sì ma non la vera polizia quindi magari qualcosa cambia sarebbe cambiato ecco mancano i topi poteva essere una storia pure crossover ma si è preferito dedicarla ai papri chissà chissà che un domani proprio perché no per il look a 2025 sarebbe un coronamento no vent'anni dopo si potesse realizzare la storia di qualche metro più lunga magari a tema topi a questo punto oppure crossover ecco lasciatene lo stesso la posa del cuore concludeva così l'albo roba da pazzi votate la storia eh guardate con un sms al numero se non me la ricordo wow chissà e poi cosa ne sarebbe di questi sondaggi visto che sì c'era già il sito ma chi è che andava sul sito a vedere poi i risultati non so nessuno gli abbonamenti ma però per le olimpiadi e poi nient'altro ai re dei pasticci serie che ancora oggi a volte va avanti grazie a faccini vedete faccini già era abbastanza riconoscibile vent'anni fa questo e poi la classica cucita finale con tutte le suonerie che potevano essere comprate nel telefono queste io me le ricordo non comprei mai nulla ma ricordo che per qualche motivo volevo avere qualcuna di essa perché comunque al tempo questo era il massimo della tecnologia che poteva darci bene questo era l'albo un albo comunque per me dei grandi ricordi ecco per quello che ho visto nelle nazionali per quello che usciva per gli autori presenti per un casti che tra l'altro non c'era nella storia lunga ma c'era nell'albo agli inizi ben 19 anni fa e per tantissimi autori che oggi sono maestri primari o secondari ma che già 20 anni fa operavano ci ho detto vi ringrazio vi saluto e spero che un domani quella storia questa storia di ben 242,45 metri possa essere superata sempre al topolino stesso per avere l'ennesimo record alla prossima ciao ciao